Tancredi d'Altavilla, un eroe medievale tra storia e leggenda. Tancredi d'Altavilla è una figura storica complessa e affascinante, che ha attraversato i secoli lasciando un segno indelebile nella cultura occidentale. Cavaliere Normanno, principe di Galilea e reggente del Principato d'Antiochia, è noto soprattutto per essere stato uno dei capi della prima crociata in Terra Santa, nonché uno dei personaggi della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso. Le origini Tancredi nacque intorno al 1072, figlio di Odone di Monferrato e di Emma d'Altavilla, sorella di Roberto il Guiscardo. La sua famiglia era di origine normanna e proveniva dall'Alta Italia. La prima crociata Nel 1096, Tancredi partecipò alla prima crociata, un'impresa militare e religiosa che vide migliaia di cristiani europei partire alla conquista della Terra Santa dai musulmani. Tancredi si distinse subito per il suo coraggio e la sua abilità militare, e fu uno dei principali protagonisti della conquista di Antiochia, la prima città musulmana a cadere nelle mani dei crociati. La reggenza di Antiochia Tancredi Dopo la conquista di Antiochia, Tancredi fu nominato reggente del Principato. Tancredi Governò la città per diversi anni, dimostrando le sue capacità di condottiero e di politico. L'amore per Clorinda Tancredi è noto anche per la sua storia d'amore con Clorinda, una principessa guerriera pagana. I due si incontrarono durante la battaglia di Antiochia, e tra loro nacque un amore passionale e tragico. Clorinda morì combattendo contro Tancredi, che rimase sconvolto dalla sua morte. La morte Tancredi morì nel 1112, durante l'assedio di Gerusalemme. Fu uno dei primi crociati a morire durante la conquista della città santa. L'eredità Tancredi è considerato uno degli eroi della prima crociata. La sua figura è stata celebrata da poeti e scrittori di ogni epoca, e ha ispirato numerose opere d'arte. Tancredi nella Gerusalemme liberata Nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso, Tancredi è uno dei personaggi principali. Il poeta lo ritrae come un eroe romantico, un guerriero valoroso e un amante appassionato. La storia d'amore tra Tancredi e Clorinda è uno dei momenti più drammatici dell'opera. Tancredi nella cultura popolare La figura di Tancredi è stata rappresentata in numerose opere di arte e letteratura. Tra le più celebri vi sono Il poema epico Gerusalemme liberata di Torquato Tasso 1581 L'opera drammatica è il combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio Monteverdi 1624 Il dipinto Tancredi e Clorinda di Peter Paul Rubens 1637 Tancredi è una figura che ha attraversato i secoli, lasciando un segno indelebile nella cultura occidentale. La sua storia di coraggio, amore e tragedia continua a ispirare e affascinare le persone di tutto il mondo. La sua storia di coraggio, amore e tragedia continua a ispirare le persone